Su 156 donne detenute la prevalenza di epatite C ha riguardato circa il 20,5%, una cifra due volte superiore rispetto al 10,4% del genere maschile. Il campione risulta da uno studio realizzato da Rose. Ne parliamo con Vito Fiore, l'infettivologo dirigente di malattie infettive tropicali dell'Università di Sassari. Benvenuto dottor Fiore. Grazie, grazie mille per l'invito. Grazie a lei. Dunque iniziamo subito parlando dei rischi collegati proprio all'epatite C. Quando appunto si contrae l'epatite C cosa accade? Allora, sostanzialmente l'epatite C è un'infezione che per l'80% poi interessa i pazienti cronicamente. Questo significa che porta con sé un rischio di una fibrosi del fegato, cioè piccole cicatrici che si sviluppano all'interno del fegato portando ineresorabilmente verso la cirrosi epatica e così portando rischio di epatocarcinoma. Bene, bene e insomma sempre relativamente bene, giusto nel senso che è una patologia appunto che ha delle conseguenze piuttosto importanti. I primi risultati dello studio di ROS, uno studio ancora in corso d'opera, sono stati presentati in occasione dell'agora penitenziaria 2021 durante il 22esimo congresso nazionale della SIMPS, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Ecco, dottor Fiore, quali sono questi risultati? Allora, ROS appunto come anticipato è un programma genere specifico e quindi si occupa principalmente di donne. Questo perché le donne rappresentano una minoranza in ambito penitenziario, rappresentano meno del 5% della popolazione penitenziaria. Questo le rende molto difficili da raggiungere. In questo caso 156 donne sono state inclusi all'interno di un network che ha visto infettivologi impegnati nel test dell'epatite C. La cosa importante che è stata vista e che abbiamo estrapolato dai nostri dati è che, come già anticipato, la prevalenza degli anticorpi per l'epatite C era circa due volte superiore a quelli di altri studi già condotti in Italia dallo stesso gruppo, ma che includevano poche donne. Di queste, peraltro, quasi tutte avevano un'infezione attiva, quindi erano pazienti da trattare. Ecco, dottore Fiore, secondo lei come mai questo risultato? Cioè perché l'epatite C si diffonde maggiormente tra le donne? Nell'ambito della popolazione penitenziaria femminile c'è un'enorme problematica. Diversi lavori e diversi dati supportano il fatto che le donne siano una popolazione sottoservita all'interno dei sistemi penitenziari, sia perché sono un piccolo campione, e questo le rende più difficili da raggiungere, sia forse perché abbiamo bisogno di fare un network maggiore per raggiungerle. Tra l'altro i reatti per i quali le donne vengono attualmente incarcerate sono spesso correlati tra di loro e praticamente il sesso, quindi la prostituzione e la droga. Quindi questo le rende una popolazione particolarmente vulnerabile dal punto di vista delle infezioni contraibili via sangue, come può essere l'HCV. Certo. Ecco, come fare per prevenire una situazione del genere? Innanzitutto dobbiamo essere noi a fare rete e a raggiungere le donne all'interno dei penitenziari italiani. L'utilizzo dei test rapidi innanzitutto, che è qualcosa che ci consente di proporre un test rapidissimo al paziente e dargli un risultato immediato, più o meno in 15 minuti, e quindi poterlo stadiare immediatamente, cioè fare tutti quegli esami che ci permettono di poter prescrivere la terapia. Quindi il controllo parte da strategie mirate di microeradicazione, cioè strategie volte a testare rapidamente e altrettanto rapidamente trattare le pazienti. Grazie dottor Fiore per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Appunto salutiamo il dottor Vito Fiore, l'infettivologo dirigente di malattie infettive tropicali dell'Università di Sassari. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.